Salve a tutti, innanzitutto benvenuti, bentornati, come sempre vi invito a iscrivervi, lasciare un like, condividere e commentare. Oggi per l'ennesima volta ritorno a parlare della truffa del pacco in consegna, pacco in spedizione, pacco fermo in dogana. Questo per quale motivo? Perché proprio questa mattina ho ricevuto l'ennesimo SMS truffa che mi avvisa che c'è un pacco in giacenza alla dogana e che necessita di una mia azione per essere sdoganato. Ora, quando c'è realmente un pacco da essere sdoganato, su per giù la procedura è questa. Però c'è da dire che dal 2020, periodo pandemia, questa truffa è esplosa perché circa il 70% degli acquisti con tutto chiuso è stato effettuato online. Ora, ho deciso di cliccare sul link in questione, tra l'altro mi è arrivato questo SMS sul numero Veri Mobile che non ha nessuno, che nessuno conosce, che non utilizzo e quindi ho deciso di vedere un pochettino da questo telefono dove non ho applicazione di banca e altro, è una connessione che, come ho spiegato in altri video, utilizzo come connessione internet di scorta, il link dove mi riportasse in questo caso. Prima di tutto mi si è aperta una schermata alla quale mi veniva informato che il sito era bloccato perché poteva essere fraudolento e che se avessi voluto continuare sarei stato esposto a qualche pericolo. Ho deciso di andare incontro ai pericoli e notate qualche cosa di strano? Ve lo dico io. Allora, hanno, diciamo, modificato quello che è il logo di un noto spedizioniere. Vabbè, diciamolo il nome. Il nome dell'ospedizioniere originale è UPS, invece qua è IPS, però la grafica e il logo sono uguali. Ora puntano sulla confusione anche con una dinamica mentale. Il nostro cervello tende a riconoscere e aggiustare eventuali errori visivi. Quindi, non so, avete mai visto una parola scritta male ma voi capite il vero senso, la vera parola, come doveva essere scritta correttamente. Ora c'è da chiarire un altro aspetto. Ma come hanno fatto i truffatori a spedire, a inviare un sms a un numero che non viene utilizzato, che nessuno conosce, che non è pubblicato da nessuna parte, che non viene utilizzato per registrazioni da nessuna piattaforma? Ebbè, questo è molto semplice e si basa sugli archi di numerazione. Facciamo un esempio. Mutuiamo un po' di prefissi 340, 348, 377. Questi sono i prefissi, d'accordo, 3, 3, 3, 3, 7, i prefissi dei operatori telefonici. Un numero telefonico è composto da 7 cifre più il prefisso di 3 cifre, 348, 340, 333, 339, 371, 327, 328, 320 e via dicendo. Ora, questo numero telefonico è composto da varie combinazioni, combinazioni formate appunto da 7 numeri seguite al prefisso. Ora, basta inserire un prefisso e un arco di numerazione all'interno di un software che poi ne elabora tutti i numeri dell'arco di numerazione. Quindi facciamo conto, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e così via progressivamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, finale e poi andiamo a scalare, d'accordo, per completare un arco di numerazione. Ovviamente sono tantissimi i numeri, ma un software ci mette veramente poco a elaborare un arco di numerazione. Tutti i numeri di un arco di numerazione, d'accordo? E ci sono software in grado di inviare SMS massivi, ovvero di inviare una quantità di SMS simultanei a un numero abbastanza ingente di numeri di telefono. Quindi immaginate avere un software del genere, dei software del genere per la creazione degli archi di numerazione e per la gestione degli SMS massivi e si ha il risultato che i truffatori buttano l'esca nel mare per raccogliere un po' di pesca. Perché c'è sempre qualcuno che ci casca, c'è quello che non fa appunto attenzione, IPS, UPS, o c'è chi aspetta un pacco e comunque pensa, magari arriva dalla Cina, pensa che realmente deve sdoganare il pacco. Ora, il mio consiglio è sempre quello. Quando aspettate un pacco, innanzitutto, quando avete fatto l'ordine, appuntatevi, segnatevi il numero d'ordine, il numero di tracking della spedizione e verificate costantemente lo stato della spedizione sia dal portale dove avete acquistato quello che avete deciso di farvi spedire e sia lo stato di spedizione sul sito web dello spedizioniere. Questi sono i metodi più sicuri. Ora, è vero che può arrivare una notifica per un'azione da seguire, un pagamento per lo sdoganamento, però andate sempre sul sito web dello spedizioniere, passate per questo canale se non volete essere truffati perché, come ho già spiegato in altri video, nella migliore delle ipotesi, andando sul sito truffaldino, vi chiede di pagare un importo che poi corrisponde a un pseudo abbonamento scoprite di servizi online, quindi sarà anche un costo ricorrente, d'accordo? Quindi non solo venite truffati in quel momento, ma poi vi ritroverete, fino a che non ve ne accorgete, dei costi in estratto conto ciclici, d'accordo? Invece, se va male, possono rubarvi i dati della carta di credito o del conto corrente e quindi i truffatori possono prosciugare il conto, possono anche utilizzare i dati della carta di credito per fare acquisti transazioni online. Quindi state ben attenti, io ripeterò sempre, fino a quando ne avrò la possibilità, le dinamiche delle truffe, soprattutto online, perché stare nella stanza, nel salotto di casa, nella propria stanzetta, nel proprio studio, non rende immuni dalle truffe online. Abbiamo la percezione di essere al sicuro perché siamo a casa nostra, d'accordo? Ma ci sono malintenzionati che entrano in casa nostra dalla finestra e non dalla porta. La finestra cos'è? L'SMS truffaldino, l'e-mail truffaldina, il messaggio su un social network, un messaggio truffaldino. Quindi dobbiamo stare attenti, d'accordo? Perché la nostra vita reale ha comunque un suo corrispettivo nella vita digitale. andiamo in conto alla informatizzazione, alla transizione digitale e determinati aspetti della nostra vita corrono su due binari paralleli, il mondo reale e il mondo digitale. Quindi state ben attenti a questo tipo di truffa dello sdoganamento, del pacco, del pacco in consegna, del pacco in giacenza, perché è una truffa insidiosa e si basa sulla legge dei grandi numeri, d'accordo? E poi si basa un po' anche su distrazione, ingenuità e sulla rapidità e sulla confusione, d'accordo? Quindi state ben attenti soprattutto perché a dicembre, a Natale, si fanno tanti acquisti, si fanno tanti acquisti online e quindi si può essere vittime di truffe del genere. Questa volta mi sono dilungato oltre i tre minuti del format che richiede TikTok e quindi trasporto anche alcuni contenuti di TikTok su YouTube perché è un tipo di contenuto che riguarda una truffa che andava ulteriormente spiegata con particolare attenzione, con specificità, d'accordo? Quindi io vi ringrazio, noi ci vediamo al prossimo video e se siete stati vittima di questa truffa lasciate un commento, raccontate la vostra esperienza oppure comunque vi invito a iscrivervi al canale, di sostenermi, lasciare un like e di condividere il video per rendere il più noto possibile il meccanismo di questa tipologia di truffa. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!